Stiamo festeggiando la settima edizione della nostra festa e anche quest'anno abbiamo raggiunto oltre le 150 persone, quindi siamo molto contente, soprattutto perché il nostro club si contraddistingue per la beneficenza. Abbiamo deciso di donare il ricavato al reparto di terapia intensiva pediatrica neonatale dell'ospedale Bufalini di Cesena per acquistare un macchinario che sarebbe una pompa di infusione per la somministrazione di alimenti e di farmaci per i bambini nati prematuramente. I tifosi di Cesena si sa che stanno sempre vicini, questa è una cosa molto bella per la beneficenza, quindi noi quando c'è della beneficenza ci siamo sempre, la classifica purtroppo è quella che è, però vediamo il sistema, sappiamo che è difficile però come tutte, quindi questo è il nostro stadio con la nostra gente, quindi noi se dobbiamo vincere soprattutto è in casa, perché abbiamo bisogno di punti e i punti più importanti sono quelli che giochiamo in casa, bisogna vincere e basta.